Tante volte anche i pazienti ci chiedono se siamo vaccinati perché l'abbiamo fatto e quello che dico io è sempre avere uno spirito critico ma seguire quello che le linee guida del cantone e della scienza soprattutto dicono. È un gesto molto altruista credo, non lo si fa solo per se stessi, lo si fa tanto per gli altri, per la sanità pubblica, per tutto quello che è evitare che questo virus si propaghi tra le persone. Distanti ma vicini, proteggiamoci ancora.